Grazie a tutti. Se solo riuscissi a farmi venire un'idea nuova, rivoluzionaria, che spazzasse via queste terne volgari. Un'idea rivoluzionaria. 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 Cristo te! Dove sono finito? Quello, quello è il Vesuvio che ha distrutto Pompei. Ehi, Gevanotto! Sei rimasto sott'acqua per un sacco di tempo, lo sai? Questi non sono romani. Secondo te? Secondo te ci capisci. E chi lo sa? Ma com'è arrivato qui? Da dove è entrato? Hanno strani occhi allungati. Ho capito. Deve essere un bagno per gli schiavi. Un bagno collegato al passaggio attraverso il quale sono arrivato qui. Ehi, straniero! Non startene lì così. Vai a fare un giro. Mi dicono di andarmene perché questi bagni non sono all'altezza dei romani. Hai perso la lingua? E poi, certo, li metto in imbarazzo. Hanno diritto anche loro a un luogo dove rilassarsi in pace. Un momento. Che cosa sono questi oggetti? Dove è andato?